Formate Modali delle copiella I piacere i 120 euro I 500 euro Tronto estrati di chi Perché? Perché un limerale Mun posso recombrare O è in alcun misi O è in intermino Svoliasi O è in super Italia E per te nuotora ci assicci E necestut Stigam non ministros Un limerale Gio più stai fico adesso, io non mi sono più che il giardino è il giardino che era il giardino. Oire. Ma non è il giardino, fai e il giardino, faccio il telefono, ci sono fai per esempio in una situazione. Ci sono le chiusi per il giardino, quindi non lo so, non so, non so, non so. Il giardino è un giardino, non lo so, non so. Il giardino è il giardino, è il giardino, è il giardino. Trosin di thalassare negozi, e i genezze stus e nesos e co taliazundi me allus. Mh. Ma che su, re! La buona bocaccia me esikoso. Chi no misi s cattà di gnomis s s udrondomi al litro c'erratoni stratiotikiii i a treo xa e nattici, re! Re ma tu rà per i pesze, mere! Namm pu thiollet e n'acaspo, re! Re! A fo' e stratiotikos i a treo s polemicun e nattici, kubu hi me, re! E fpore! Grazie a tutti.